Questo è il nostro amarrone Monteolmi, il nostro cru, è un amarrone che produciamo dal 1964, il primo amarrone fatto da mio padre, da abbinare con piatti molto forti, molto intensi nei sapori, tipo formaggi o selvaggina. Lo assaggiamo. Il naso porta noti sempre di prugna, tabacco, rabarbaro, ribes rosso, ribes nero anche. È un vino veramente complesso. La bocca colpisce subito per la potenza e l'intensità proprio di sapori. Quindi è un vino comunque molto lungo, è un sapore molto persistente che rimane in bocca tanto tempo. Con chi berlo? Io direi come persone che non si fermano solo all'apparenza. È un vino anche difficile in certo senso perché appunto non è immediato ma comunque esprime tantissimo. Basta un po' di attenzione.